Dopo la protesta iniziata ieri nel deposito di via Pastore a Salerno, capolinea di via Vinci Prova, sempre nel capoluogo desolatamente vuoto dagli autobus della Sita Sud, che ha appunto sospeso le corse sia verso Napoli, sia in provincia di Avellino che verso la costiera amalfitana. Tantissime le persone che hanno cercato di reperire informazioni dopo aver atteso, semmai inutilmente, alle pensiline in giro per il capoluogo e negli altri centri serviti dall'azienda direttamente alla biglietteria. Quante persone sono venute oggi a chiedere informazioni ricevendo appunto notizie sgradite che sono sgradite anche e soprattutto per i lavoratori? Decine e decine di persone perché alle pensiline naturalmente non vedendo passare nessuno sono venuti qui, soprattutto il telefono che scrive interrottamente, essendo questo l'unico numero per le informazioni, nulla, niente di niente. Io purtroppo sono tenuta a dire che per oggi nulla, per domani punto interrogativo e quindi devono ritelefonare per aggiornarci. Questo è tutto. Qual è il numero? 089 40 51 45, unico numero per le informazioni Sita Sud, unico, non altri perché non vi darebbero delle informazioni giuste, solo questo. In migliaia nelle tre province servite dalla Sita Sud, Napoli, Avellino e Salerno, sono rimasti quindi a piedi impossibilitati a raggiungere i luoghi di lavoro, le famiglie oppure la scuola. Io ho trovato la sgradita sorpresa di sapere che la Sita è in isciopero e che al momento 439 dipendenti autisti potrebbero essere licenziati. In Costiera dove hanno il monopolio al momento creeranno delle grosse difficoltà. Come ci potrà arrivare a cedere? A piedi? Mi dovrò organizzare con la macchina. Quando ero studente l'ho fatta a piedi, andate e ritorno, ero abituato, corrivo, andate e ritorno. Adesso sono vecchietto per cui devo risolvere in maniera diversa.